Ciao a tutti, questo video è giusto per darvi una dimostrazione pratica di quello che è un firewall. Allora, innanzitutto faremo riferimento a uno dei firewall che viene utilizzato in ambiente enterprise. Giusto come curiosità, in ambito enterprise le soluzioni firewall principalmente utilizzate sono come vendor. Sono Fortinet, potrebbe essere Checkpoint, che adesso vediamo. Altra soluzione di firewalling molto utilizzata. Oppure potrebbe essere Palo Alto. Questo che vedete qui è Checkpoint e Palo Alto. Quindi principalmente queste tre sono le tipologie di firewall più utilizzate in ambito enterprise. Ognuno di questi tre vendor dà la possibilità di scaricare una macchina virtuale, perché comunque i firewall solitamente vengono deployati attraverso dell'appliance fisico, ovvero tramite delle macchine fisiche, dei server fisici. Diciamo così per capirci. Tuttavia, per utilizzarle in ambiente di laboratorio si possano scaricare le macchine virtuali. Quindi ogni vendor ha la sua procedura per scaricare le macchine virtuali. Su Fortinet possiamo scrivere su Google FortiGate virtual machine demo, qualcosa del genere. Ci rimanda a questo link. Dimostrazione del prodotto FortiGate VM. C'è da completare questo form e poi ci verrà fornita la macchina virtuale che potremo utilizzare. Questa macchina virtuale ci verrà fornita come file compresso. Quindi quello che andrà fatto sarà decomprimere questo file. E qui possiamo osservare i vari file che formano poi quella che è la virtual machine complessivamente. Per cui noi adesso andremo su VMware Workstation, andremo su Open e cercheremo la cartella relativa a questa macchina virtuale. Eccola qui. E qui a questo punto cliccheremo su OVF. Qui ci appare un messaggio che ci chiede se vogliamo continuare, se vogliamo importarla. Effettueremo l'import. Accetteremo i termini di licenza. E tempo qualche secondo avremo la nostra macchina virtuale importata. Adesso come possiamo osservare questa macchina ci viene fornita con tutta una serie di interfacce di rete. Che per farvi capire sono le famose gambe, gambette, possiamo definirle così, di quello che è il firewall. Per cui questo è il firewall. E ognuna di queste gambette che rappresentano reti differenti. Quindi questa potrebbe essere una rete, questa un'altra. Sono quelle che poi nella rappresentazione tramite un ambiente virtuale sono i network adapter. Giusto per farvi vedere, noi ce ne bastano due o tre, quindi non tutti questi. Quindi li togliamo, ne lasciamo due. E li posizioniamo all'interno di una sottorete. Quindi prima di tutto andiamo a vedere il nostro virtual network editor. Vedremo quali reti sono definite. Qui abbiamo tutta una serie di reti. Ad esempio possiamo utilizzare la VMnet Virtual Network 7, 192.6820. E possiamo utilizzare, ad esempio, la 440. Quindi utilizziamo la 6 e la 7. Quindi prima la ricancelliamo gli adattatori di rete in più, che non ci servono. E qui possiamo quindi andare su custom, VMnet 7. E qui su quest'altro VMnet 6. Ok, volendo possiamo crearne anche un altro. Network adapter. E lo mettiamo su... Vediamo, innanzitutto clicchiamo qui con ok, se non li riperdiamo. Virtual network. E lo mettiamo sulla 4. Quindi edit. Add. Aggiungiamo un nuovo network adapter. Lo mettiamo sulla 4. Custom. Ok, adesso abbiamo definito quelle che poi verranno all'avvio della nostra macchina virtuale, quindi del Firewall, verranno caricate adeguatamente nel sistema. Quindi clicchiamo con ok. E diamo il power on a questa macchina virtuale. Questa macchina virtuale, ovviamente, è una trial, quindi non ha licenza, non possiamo effettuare l'aggiornamento dell'antivirus, e di molte definizioni dell'anti-malware. Insomma, non possiamo fare tutta una serie di cose. Può viaggiare, ad esempio, qui possiamo leggere only one processor, perché se ci fossero più di un processore, la macchina virtuale non si avvierebbe, in quanto appunto è una macchina che serve solo per scopi di test e non certo per essere utilizzata in ambienti di produzione. Qui mettiamo le credenziali di accesso admin-admin di default. E a questo punto, tempo che la macchina admin, se non ricordo male dovrebbe essere admin-admin, mi potrei anche sbagliare. Non è admin, probabilmente. Datemi un secondo che controllo. Grazie. Grazie. Grazie.